bentornati nell'orto in telechia ero qui che annaffiavo una serie di vasi in cui abbiamo messo un po di pomodori e a treplice che ora hanno già creato una vasta e iraconda selva selvaggia aspra e forte ebbene mentre ero qui che guardavo la fruttificazione tra l'altro accompagnata da un po di basilico un po di cipolle ormai sepolte sono arrivato a porre lo sguardo su questo frutto il mio sguardo si è deformato accartocciato raccapricciato ho guardato questo pomodoro ho detto madonna sei bruttino qualche giorno fa era più bello era più integro era più pieno mi pare che abbia preso una ciocca dal sole e sia andato in in graduale marcia scienza insomma madonna sei bruttino questo pomodoro poi l'ho guardato bene ho detto aspetta questo non è questo non è un classico pallore di un pomodoro che non matura ho capito chi è questo ed un tratto mi è stato tutto chiaro ho capito che è questo pomodoro questo pomodoro che sembra il più brutto sembra il peggiore anche perché la pianta è quasi ormai invisibile sepolta dalla treplice colpo d'occhio sembra proprio il peggiore ma poi mi sono ricordato che questo è il pomodoro è il frutto della pianta dell'unica pianta che è veramente sopravvissuta alla seconda alla prima e la seconda gelata di quest'anno quindi il dolce paradosso vuole che il pomodoro peggiore sia in realtà il pomodoro migliore e a tal proposito ora lo raccolgo purtroppo rompendo il gambino quindi facendo un danno un danno da davvero tofaz che avrei voluto evitare ma tant'è e ora con le tecniche di salvaguardia dei semi che abbiamo visto recentemente si procederà tenendo il seme nel pomodoro peggiore del pomodoro migliore che ha resistito realmente alle gelate questo è un un white beauty che a maturazione sta facendo delle venature leggermente rose non si vedono ma questa palpa questa polpa pasta giallo chiaro si intervalla a venatori più rose bene questo è quanto questo quanto tanti bacetti dalla fioritura di questo meraviglioso basilico e della sua della sua forma a forma di fauce il suo ultimo fiorellino mentre qui nei palchi inferiori nei palchi inferiori ecco qui sul cosciotto possiamo vedere se ci sono i semi ecco un seme ecco due semi sul cosciotto ma se poi sbucciamo ce ne sono altri ecco tre semi sul cosciotto li recuperiamo li rimettiamo almeno simbolicamente dentro al vaso del pomodoro peggiore che è il pomodoro migliore tanti bacetti ti voglio bene a presto